prima di tutto campanellina poi pollicione a modi sfrang e poi buongiorno a tutti i beni pronti un buon giorno da micheloni da micheloni e da jj mi raccomando ragazzuoli buongiorno a tutti iscrizioni al canale buongiorno a tutti i beni pronti iscrizioni al canale supportate il canale sotto c'è tutto l'ambaradà io ricordo sempre e sempre vi ripeto sempre che a 1950 iscritti vedremo chi andrà il secondo regalo quando arriviamo a 1950 iscritti uno si prenderà un bel regalino dallo storo originale della sua squadra del cuore se no a 20 abbonati siamo due quindi come dico sempre muovere il culo mi raccomando muovere il culo dopo il piccolo entry entry come sempre mi raccomando sempre pollicione mi raccomando pollicione a me fa sorridere quando parliamo degli interini perché con tutto lo schifo che c'entrano la juventus anche diciamo che le problematiche degli interini mi fanno un po' sorridere perché adesso lo sapete che Octrino gli ha rinnovato il prestito volevano altri 100 milioni mi pare sti qua gli devono tornare sti qua gli devono tornare lì era di Dio e il cinesino è andato lì a chiedere gli altri 100 milioni ma un grande è il cinese il cinese è un grande guarda veramente chi lo vuole mandare via dall'Inter è pazzo pensate che il cinesino con tutti i debiti è riuscito non pagando gli stipendi a vincere uno scudetto oh ragazzi non pagando gli stipendi è riuscito a vincere uno scudetto bene o male ti porta coppettine coppettucce coppettine coppettucce hanno fatto bene o male una finale di Champions una finale d'Europa League e questo non sgancia un euro questo qui non ha neanche soldi per andare a bere un caffè non si sa neanche dove cazzo è questo qua voi interisti questo qui gli dovreste baciare i piedi dove cammina gli dovreste baciare questo qua sono tutti che gli corrono dietro per i debiti e questo qua vince e vince questo qua senza pagare senza tirare fuori un euro perché perché almeno lì è stato furbo senza pagare di circondarsi di persone capaci è sempre tutto lì come dico io bisogna circondarsi di persone questo ha preso il meglio il meglio ovviamente da dove li ha presi dalla Juventus ha preso il miglior allenatore che c'era in circolazione sul momento Antonio Conte voglia o non voglia con Conte vinci lo scudetto che poi in Europa lì è un altro discorso lì potremmo parlare avanti avanti finché volete però con Conte vinci lo scudetto per quello io presso sempre presso sempre voglio Conte voglio Conte voglio Conte voglio Conte voglio Conte avete capito? poi ovviamente ha preso Marotta che è il migliore il migliore nel muoversi nelle acque nelle acque profonde nella melma è il migliore a prendere parametri zero perché è il migliore Marotta è il migliore questo è il cinesino stato furbo poi ovviamente dietro sappiamo aiuti aiutini paraculaggini senatori quel quell'altro staltro loro però per ritornare su per ritornare su si è circondato di persone capaci ma parte sempre lì quando vi dico che l'allenatore è la cosa più importante che ci sia bisogno è partire sempre dall'allenatore e con l'allenatore la società dovrebbe programmare la squadra chi prendere chi non prendere poi se hai un direttore sportivo o direttore dell'area tecnica non so adesso Marotta che è DS e uno come Marotta vai tranquillo perché hai il culo parato con Marotta quindi è andato lì a chiedergli a chiedergli altri 100 milioni grande il cinesino grande Zhang Zhang sei un grande guardate io lo prendiamo per il culo dove Zhang di qua di là domiciliari di galera però Zhang è un grande è un grande ragazzi dai su passiamo Sponda Juve dai che andiamo andiamo sulla sulla disperazione totale allora ieri leggevo su un sito un sito che poi vi faccio una domanda vediamo chi preferite da una parte o dall'altra perché ci sono due fazioni allora quello che mi dice che mi ha detto questa persona qua parla di Zidane e del Piero Zidane allenatore del Piero non so sarà vicepresidente non lo so farà da collegamento non lo so cosa potrebbe fare del Piero in società però Zidane e del Piero porca di una miseria invece dall'altra parte leggevo su questo su questo sito su questo sito perché siccome questi Tiago Mottisti che io ve l'ho detto ve l'ho detto più di una volta Tiago Motta tanto di cappello Tiago Motta ma secondo me Tiago Motta è un specchietto per la lodole io non guardati io sono anche dell'idea che Tiago Motta potrebbe rimanere a Bologna perché se Bologna va in cempio con Tiago Motta facendo anche qualche altro acquisto potrebbe fare molto 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 bene quindi non escludo anche che Tiago Motta rimanga a Bologna a parte il fatto che io Tiago Motta lo vedo tipo a Premier o all'estero non lo vedo non lo vedo perché dopo Bologna ovviamente deve fare lo step superiore la Lazio ha già preso l'allenatore la Roma penso che prenderà De Rossi a meno che non se lo prenda il Napoli che deve prendere l'allenatore o il Milan diciamo che Pioli che Pioli sappiamo che l'ultimo anno la Juventus non lo so io continuo a vedere che la Juventus non andrà verso Tiago Motta un prospetto perché il prossimo anno voglio o non voglio la Juventus deve vincere qualcosa deve vincere il prossimo anno perché il prossimo anno ve l'ho detto adesso questa fine stagione faranno piazza pulita secondo me allenatore è quei 4, 5, 6, 7 merde che abbiamo fuori dalle palle che quest'anno secondo me è stato un anno di transizione perché era problemi di qua problemi di là tutti i problemini risolti all'incirca questo qua penso sia stato dovrebbe essere stato l'anno di ripartenza l'anno zero io penso che il prossimo anno che il prossimo anno sarà veramente un anno di la vera programmazione diciamo così con l'allenatore nuovo giocatori con certi giocatori veramente finalmente fuori dalle balle quelli a scadenza di contratto i doping e quello quell'altro stato quindi penso che il prossimo anno sarà si riparterà quindi e poi dall'altra parte dall'altra fazione diciamo che leggevo su questo sito qua che che il prossimo anno ci sarà questa triade Chiellini ritorno di Chiellini in società Antonio Conte e Michel Platini questo hanno detto adesso ovviamente c'è la sosta delle nazionali si sparano botti calciomercato sapete com'è durante la sosta delle nazionali sono due le cose o cosa rischia la Juve o toto allenatori toto no perché quello gira no adesso cosa rischia la Juve non c'è più ci sono intercettazioni e poi c'è girandola di panchine girandola di giocatori allora io vi faccio una domanda in questo piccolo video che non c'è neanche tanto da parlare voi vorreste del Piero Zidane da una parte o da quell'altra vorreste il ritorno di Antonio Conte con Chiellini e Platini io sapete mi dispiace per del Piero ma io lo sapete che in questo momento per ritornare dove la Juventus deve essere dove dovrebbe essere abbiamo bisogno di un allenatore con tutto rispetto per Zidane ma Zidane ha allenato solo il Real Madrid se avesse allenato anche altri squadroni che avesse vinto e beh questo qua dopo il Real Madrid che cacchio ha fatto niente quindi anche quello lì bene o male è una scommessa poi ripeto ha allenato il Real Madrid questo ha vinto tre champion neanche non lo so tre quattro champion non mi ricordo però io per ripartire soprattutto dall'Italia perché bisogna rincominciare a ripartire vincendo prima di tutto lo scudetto poi per l'Europa se ne riparla bisogna che venga uno un martello pneumatico in panchina è l'unico martello pneumatico secondo me Antonio Conte dicono dicono e poi chiudo che Antonio Conte stia già lavorando per la Juventus sotto traccia ovviamente stia già mettendo le basi per questa nuova Juventus poi i giocatori Orbita Juve già li sapete sono sempre i stessi nomi sono i Koppmeier i Merino i Kepprenturam e Zaccagni Felipe Anderson sono quelli là se non sbaglio Samarziz quello dell'Udinese sono quei sei nomi Anderson mi ricordo che c'era anche quest'altro dell'Atalanta poi ovviamente la Juventus darà anche contropartita di qualche giocatore vedremo comunque i giocatori che girano sono quelli là vedremo vedremo come andrà a finire comunque ditemi la vostra preferite Zidane del Piero o Chiellini Platini e Ritorno di Conte a voi il quesito ciao a tutti belli e brutti un bacione ci vediamo la prossima stasera vediamo devo andare qua del dentista sto tremando ragazzi se vedete questo video vuol dire che sono tornato vivo ragazzi ho paura del dentista ho sofferto da giovane perché sono andato da un dentista incompetente che mi ha fatto talmente tanto male che ho dovuto andare d'urgenza da un altro che mi ha dato antibiotici ma avevo una roba non mi prolungo e ogni volta che devo andare dal dentista tremo tremo perché è il mio punto debole vediamo questo video lo vedrete se tornerò vivo dal dentista è così poi insomma questo volevo dirvi ragazzi mi raccomando a tutti un bacione a tutti belli e brutti fatti bravi e niente ci vediamo la prossima stasera in live forse abbiamo degli ospiti vediamo se riesco a far entrare che ho contattato uno dall'america dall'america vediamo se stasera ci sono gli ospiti dovrebbe esserci spacca calcio questo dall'america che ho poi vediamo se rientra riccardo il mio amico interista questa sera ci dovrebbe essere carne al fuoco con la live vediamo vediamo insomma dai ok ragazzi ciao a tutti i belli e brutti forza juve sempre allegri e agnelli auto el can auto tutti i auto solo forza juve ciao raga grazie a tutti